Salve a tutti e benvenuti in questa seconda parte dei miei confronti tra LED. Nello scorso video infatti abbiamo visto i migliori LED per l'illuminazione interna della vettura, LED acquistabili come pannellini o come strisce di LED, di semplice applicazione, perfetti per illuminare in maniera semplice ed economica. In questo nuovo video invece vi farò vedere qualcosa di un po' più impegnativo ma molto più potente. Iniziamo subito con i LED Don Vatt. Questi LED, che si possono comprare sfusi come lampadine o venduti in accoppiata a un dissipatore di calore, sono dei LED singoli, da saldare e collegare con un apposito regolatore e che si possono utilizzare per realizzare diverse soluzioni di illuminazione. Nonostante siano LED a elevata potenza, vengono venduti con un'efficienza veramente molto elevata, di circa 100-110 lumen per ogni watt, e una durata approssimativa di circa 50.000 ore. Ovviamente se opportunamente raffreddati. Qualcuno probabilmente ricorderà che ho utilizzato 8 di questi LED per creare un mini faretto da lavoro con batteria ricaricabile. Molto potente e allo stesso tempo con un'autonomia veramente molto elevata. Se vi interessa la realizzazione di questo faretto o l'acquisto di questi LED, troverete come al solito tutti i link in descrizione al video. Tornando ai LED invece, è bene specificare che, essendo LED singoli, non possono essere direttamente collegati a 12V come le strisce di LED, ma necessitano di un regolatore di corrente. Questo regolatore può essere un driver apposito per LED o una resistenza da aggiungere in serie. In entrambi i casi, da calcolare attentamente sull'assorbimento massimo dichiarato per questi LED di 350 mA. Nel mio caso ho utilizzato il mio alimentatore da banco dotato di una limitazione di corrente integrata. In base alla corrente applicata, varia non solo l'emissione luminosa del LED, ma anche la sua temperatura d'esercizio. Fino a circa 3V, infatti, non c'è bisogno di dissipatore di calore, mentre a 3,4V dovremmo utilizzare un dissipatore. Ma avremo da un singolo LED la luminosità di 3 LED 5650. I LED delle strisce più potenti ed efficienti che ho testato nello scorso video. In particolare, applicando una tensione di 2,6V ho misurato 0,05A di assorbimento, pari a 0,13W e 13L. Applicando 3V, la tensione che di solito utilizzo per non dover installare un dissipatore, ho misurato 0,11A di assorbimento, quindi 0,33W e 33L. Mentre a 3,4V ho raggiunto 0,21A, circa 0,72W e 72L, pari all'incirca all'emissione luminosa di una lampadina alogena da 5W. Nonostante da specifiche la tensione massima sia di 3,4V e la corrente di 350mA, per raggiungere il Watt di potenza mi sono dovuto spingere fino a 3,6V e 0,27A. Inoltre, il LED durante i miei test ha retto egregiamente una leggerissima overvolt fino a 3,7V, dove ha superato di poco 1,1W e circa 110L emessi. Questi non sono ovviamente LED alla portata di chi cerca una soluzione di facile installazione, ma sono sicuramente l'ideale per chi cerca un'elevata luminosità in uno spazio ridotto, oltre a un'elevata efficienza energetica. In particolare, sono dei LED veramente ottimi da collegare a tensioni inferiori a 12V, visto che tutte le strisce LED e le lampadine da auto funzionano esclusivamente a 12V, e quindi sono veramente utili per progetti particolari e soprattutto per progetti a batteria. Fermo restando il fatto che è sempre possibile collegarli in serie con un'opportuna resistenza per farli funzionare anche a 12V. Però, se volessimo veramente tanta luce, per esempio per effettuare lavori in notturna, per illuminare meglio un punto inaccessibile nel vano motore, o anche solo per avere una fonte di illuminazione extra in caso di bisogno, quello che ci servirebbe sarebbe un bel faretto comodo e compatto. No, non il mio faretto con 6 LED depotenziati, intendo un vero faretto LED come questo. Dotato di una costruzione interamente in metallo, un regolatore di tensione integrato e un sistema dissipante con a rette di metallo, oltre a presentare una bellissima finitura in nero opaco, è un faretto 12V dotato di 9 LED da 3W. Secondo il produttore, 2W secondo il mio alimentatore. Utilizzabile con qualsiasi tensione da 9 a 30V e un consumo fisso di 12W, oltre a essere impermeabile, presentano l'illuminazione spot, molto concentrata su un singolo punto, seppur ben diffusa grazie alle lenti integrate su ogni LED. Questo faretto, venduto in coppia a un prezzo estremamente ragionevole sul link che troverete in descrizione al video, insieme a tutti i faretti della stessa famiglia con potenze e luminosità più elevate, ha una durata dichiarata di circa 30.000 ore di funzionamento e una notevole luminosità di 1.200 lumen, con la stessa efficienza energetica dei LED sfusi di cui parlavo prima, quindi circa 100 lumen per ogni watt consumato. Di poco superiore rispetto a quello delle migliori strisce LED dotate di LED 5630. Pesante, ingombrante e di difficile installazione su un'autovettura, venduto in coppia per un totale di due faretti 24W e 2400 lumen, pur non essendo il più potente della sua famiglia, è comunque di grande utilità per tutti coloro che vogliono un'illuminazione potente e affidabile per tutti gli interventi di manutenzione del proprio veicolo o anche per l'utilizzo in situazioni più o meno particolari. E con questa mia piccola analisi sui LED più potenti che possiamo installare sulle nostre vetture, il video si conclude. Se il video ti è piaciuto ricordati di lasciare un mi piace, se anche te hai sostituito tutte le vecchie lampadine con dei più efficienti LED lasciami pure un commento, ma soprattutto non dimenticarti di iscriverti al mio canale per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Ciao a tutti!